Dopo quei risultati negativi che avevamo fatto ci voleva questa vittoria, dovevamo dare un segnale assolutamente, solo credo che la nostra forza sia stata quella di esternarci da tutto quello che non c'entra con lo spogliatoio, nel senso che ci siamo resi conto che qualcosa non andava, quella cattivera che abbiamo visto domenica magari era venuta a mancare nelle due partite esterne, però l'importante è che abbiamo fatto tre punti, che secondo me sono tre punti d'oro. Ma io credo che questo è un campionato abbastanza equilibrato, la differenza la fa proprio con la cattiveria, con la fame di risultato, perché credo che a livello tecnico ci sia molto equilibrio. Domenica abbiamo dimostrato che nonostante la grande qualità del Siena, se abbiamo fame, se abbiamo la vera voglia di ottenere il risultato, non dobbiamo temere nessuno in questo campionato. In questo momento noi sembra che non si dia conto a questi sei punti di penalizzazione, che comunque sono sei punti, che sarebbe tutt'altra classifica, nel senso che noi guardiamo il giornale, siamo lì, ma con sei punti saremo molto più su e quindi rispecchia le qualità di questa squadra e anche i difetti, perché alla fine ciò che ci ha penalizzato appunto sono state quelle distrazioni durante tutte le partite. Però credo che noi dobbiamo essere ambiziosi, dobbiamo essere una squadra che ogni domenica noi possiamo ottenere il massimo da ogni partita, perché ne abbiamo tutte le qualità. Credo sia ancora presto di parlare di obiettivi, proprio per questo discorso dei punti, della penalizzazione, che siamo comunque al girone di andata. Però credo che abbiamo veramente tutte le carte in regola per puntare ad obiettivi importanti.